Alle porte sud di Udine ci sono degli orti straordinari in baldasseria bassa, 12 ettari coltivati col sistema biologico dalla famiglia Romanelli, di Luciano Romanelli, che assieme a sua moglie Graziella sono degli esperti di erbe straordinari. Hanno una raccolta di erbe che direi è unica, poi Graziella ha una capacità di raccontarle e soprattutto ha una conoscenza del loro valore sia in cucina sia dal punto di vista della salute. Una delle primissime aziende del bio, ma oltre alle erbe pensate hanno una raccolta di fagioli che hanno oltre 80 varietà diverse di fagioli, quindi un patrimonio davvero inestimabile. Loro tra l'altro sono una delle aziende che ha sempre rifornito la città e sono sempre presenti al mercato al mattino e hanno l'orgoglio di dire che raccolgono per i loro clienti le erbe al mattino stesso in cui le vendono. Visitando l'azienda, che è anche uno spaccio, parlando con loro si entra in un mondo da scoprire, ma soprattutto scoprire perché te le fanno assaggiare, perché le erbe vanno annusate e assaggiate, è proprio una fogliolina, si mette in bocca, si sente il profumo, si sente il sapore e si può capire anche come devono essere usate. Direi che l'inno alle erbe per la nostra regione è la frittata di erbe. La frittata di erbe è l'unica che si fa nella maniera friulana. Tutte le altre sono omelette, cioè sono fatte molto sottili, mentre la frittata nostra deve essere alta 3 centimetri, deve essere fatta in quella che noi chiamo la farsorie, questa padella di ferro alta, in modo che la frittata sia alta, si deve girare da una parte e dall'altra finché forma una crosticina e all'interno deve essere tenera. Questa è la frittata. Vi leggo le erbe e anche qui, come per il risotto, la capacità di chi cucina sta in come mescolare le erbe. Frittata di erbe per 4 persone, ci vanno 5 voi, a ricordarsi, una a testa più una per la padella. Allora ci vanno 100 grammi di sclopiti, 6 foglie di menta, 100 grammi di urticeons che è il lupolo selvatico, 100 grammi di confenon che è il papavero selvatico, 100 grammi di germoglie di urtica, qualche germoglio di rusgli o ruscolin, che è il pungitopo che sta uscendo anche questo in questo momento, un cucchiaio di extravergine e quindi lessarle, farle rosolare, quindi versare le uova dove il tuorlo e l'albure sono sbattuti insieme, amalgamarle, cuocere a fuoco vivo. Bastano 5 minuti per fare la fietta, si gira da una parte e dall'altra, si serve un goccino di aceto balsamico tagliato a cubetti ed è un aperitivo perfetto, anche qui col friulano.